Lunedì il Vaticano ha approvato la benedizione delle coppie di fatto e di quelle formate da persone dello stesso sesso, pur continuando a non riconoscere la loro unione come un matrimonio. Secondo un documento stilato dal Dicastero per la Dottrina per la Fede e approvato da Papa Francesco, le benedizioni potranno essere effettuate a condizione che non facciano parte di rituali o liturgie regolari della Chiesa e non siano contestuali a un'unione civile. È un cambiamento significativo nell'approccio alle persone LGBTQ+, e segue la linea già anticipata dal Papa a ottobre.